Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio, carissimi fratelli. Ricordo a tutti la crociata di questa sera molto particolare, perché faremo non soltanto questa crociata intitolata «O Dio dei segni e dei miracoli, salvaci!». Faremo anche delle preghiere di liberazione e di guarigione per le persone che sono malate e che mi hanno chiesto preghiere di guarigione. Amén. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio, venga il tuo reino. Amén.